2.15 Turbinerall New Dream nei confronti di Tiberio Rock con a largo Turbinerall ha problemi Turbinerall, l'uno a tabellone e quindi il grigetto leader il 4 anche a tabellone, era favoritissimo e il lancio se ne va in 14.9 a partita la grande 7-11 B che si sistema terzo dietro il grigetto e Tiberio Rock i cavalli dopo 400 metri di gara e 400 se ne vanno in 29.9 ora può leggermente graduare il leader e conduce liberamente i cavalli affrontano la piegata, non avvengono variazioni e si completano i 600 iniziali nell'ordine del 45.3 buona andatura, tutta imposta dal leader che conduce con un paio di margini e di vantaggio nei confronti di Tiberio, 7-11 B e poi Publis Est mezzo miglio in 1.1 e mezzo e davanti alle tribune continua la fila indiana con New Dream Rex sempre a fare più che buona andatura si completa il primo giro, il primo chilometro sul mio in 17.5 i cavalli che affrontano la piegata non ci sono variazioni, 7-11 mette il nasino fuori New Dream, Tiberio, 7-11 come sono partiti allunga nuovamente il grigetto e mantiene la leadership nei confronti di Tiberio, 7-11 che si riaffaccia paletto dei 600 finali andiamo a leggere questa frazione può essere interessante in 15.2 nulla muta ancora con New Dream sempre leader ora viene via bene 7-11 e il targato B cerca l'aggancio di New Dream Rex miglio che se ne vai in 2.1 e 6 addirittura cattivo, incisivo, 7-11 B stop, tolti i tappi va lì al completamento della curva finale 7-11 B è predominante passa, passa facile si trascina anche Publishest 7-11 B ha il comando e il team Minopoli torna il sorriso dopo A per Deni squalificato con questo bel primo piano di 7-11 B 1-15 e 6 da tarare dava 20 metri totalizzatore 3-23 torna il sorriso in casa Minopoli dopo una sfortunata A per Deni vincitrice alla grande nel clu ma due rotture nel nostro trotto sono troppe se era al galoppo avrebbe vinto facile grazie e saluti alla regia di Roma che ci ha fatto compagnia per tutto il pomeriggio qui Dagnano con Emilio e domenica derby alle capanelle non mancate ci saranno veramente delle corse ci saranno veramente delle corse stellari buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti